Buongiorno Daedo, in uno dei primi episodi di questo podcast, quindi ormai 5-6 mesi fa, avevo parlato di Astro, un freschissimo framework JavaScript orientato alla velocità estrema e che ha portato alcuni concetti interessanti, tra cui il più noto è quello delle Astro Islands o Component Islands, teorizzate qualche anno prima, ma esplicitate proprio da questo framework. Bene, già da qualche giorno Astro aveva iniziato una campagna di marketing per lanciare la versione 2.0 perché ormai si è diffusa questa cosa che le release dei framework JavaScript devono ricordare un po' i lanci dei prodotti Apple dell'era Jobs, l'abbiamo visto anche con Vercel e Next.js lo scorso anno, ma insomma, con un annuncio carico di hype e una presentazione live su un Twitter Space costato da Cassidy Williams, è arrivata questa nuova versione di Astro. E cosa ci porta quindi Astro 2.0? La feature più pompata è sicuramente quella che viene denominata Content Collections e che in pratica permette di tipizzare i contenuti Markdown o MDX, quindi Markdown con JSX, e creare quelle che vengono chiamate Collections, quindi avere proprio dei type come blog o product. E Astro poi si occupa di creare e di validare lo schema, di formattare eventuali messaggi di errori in modo molto più parlante e poi di generare i types per TypeScript e anche di fornire l'autocomplit agli editor e così via. E questa potrebbe in effetti essere una feature super interessante perché deve creare un sito statico o quasi ricco di contenuti, ti crei le tue collection tipizzate e validate e a quel punto creare e mantenere i contenuti Markdown diventa più semplice e più ordinato. Questo è sicuramente anche per come la stanno spingendo la nuova feature più corposa di questa release. Un'altra nuova feature da segnalare, seppure non nuova in generale, è l'hybrid rendering. Cioè ora potete non solo scegliere tra il server side rendering e lo static rendering delle pagine del sito, ma mixare le due cose, quindi avere un sito SSR ma con alcune pagine pre-renderizzate e servite statiche, in modo da velocizzare le performance quando alcune pagine sapete già che non cambiano mai, o almeno non spesso, quindi tanto vale pre-renderizzare e servirle statiche. In realtà su questa feature non c'è molto altro per ora, quindi approfondiremo più avanti come è possibile mixare le pagine statiche con eventuali contenuti dinamici. Poi abbiamo una nuova e più completa e parlante gestione degli errori, molto utile per lo sviluppo locale, ottimizzazioni al dev server con l'hot module reloading e l'upgrade del build engine che ora si appoggia a VIT 4.0. Peraltro uno dei maintainer di VIT è anche nel team Astro, quindi insomma stretta collaborazione tra questi due progetti. E questo era l'annuncio di Astro 2.0, potete provarlo subito con progetti nuovi o migrando da progetti Astro 1 con l'apposita guida alla migrazione sulla doc ufficiale, ben fatta, ma non in italiano, anche tradurla, tra l'altro potrebbe essere un ottimo modo per contribuire. E in ultimo per oggi riporto la notizia del rilascio, aspetta, questa sembra che ci sia stato un rapimento, riporto l'annuncio dell'uscita del nuovo e scintillante Wine 8.0. Wine è il layer di compatibilità per far girare le app Windows su Linux. Lo sviluppo di Wine 8.0 è durato circa un anno e ci sono molti miglioramenti complessivamente, soprattutto sulla compatibilità e sulle performance, ma vi beccate anche una UI più bellina se venite dalla versione stable precedente. Se eravate invece sulle versioni dev, allora questi cambiamenti li avrete già visti. Una delle feature più frizzanti è il supporto totale al formato PE, cioè Portable Executables, e quindi ora tutti i moduli possono essere buildati in formato PE. Ci sono anche importanti miglioramenti a Wow64, che è il subsystem che permette all'applicazione 32-bit di girare su sistemi a 64-bit e che ora può funzionare senza necessitare la presenza di librerie Unix a 32-bit. Inoltre al supporto migliorato per i controller, i joystick, gamepad, eccetera, nuove migliorie grafiche sia all'applicazione di Wine che ai driver grafici interni e a Direct3D e Vulkan e una lista di nuove migliorie che vi invito a scoprire sul blog ufficiale e supportare questo progetto ormai storico e che assieme a Proton ultimamente ha dato nuova spinta all'adozione di massa di Linux. Quindi direi che possiamo dirlo ufficialmente, questo sarà l'anno di Linux su desktop. Ed era anche la fine di questo episodio, grazie per avermi seguito fin qui. Vi ricordo che se mi state seguendo in podcast di dare ogni tanto un'occhiata al canale YouTube. Ieri ho droppato un piccolo short su una roba carina. Quindi niente, ho finito, ci vediamo alla prossima. Ciao!